Non è mai un gioco di tifoseria, le grandi nazioni non cambiano il loro sistema di alleanze in base al mutare dei governi, come delle volte pure se leggo in alcune ricostruzioni, voglio dire io ero un impresentabile esponente all'estrema destra, l'amministrazione americana è guidata da un democratico e dall'inizio del mio governo le esportazioni italiane negli Stati Uniti sono aumentate di 7 miliardi, perché le grandi nazioni non modifiano i loro sistemi di alleanza, quindi intanto tranquillizzo sul ruolo dell'Italia, sui rapporti tra Italia e Stati Uniti, comunque vada e secondo me bisogna anche stare tranquilli sul rapporto tra Stati Uniti e Europa, nel senso che sì, nella storia degli Stati Uniti è abbastanza ricorrente un dibattito su una tendenza isolazionista per una nazione che ha quelle dimensioni geografiche, quella forza economica, è anche normale che ci si chieda se non sia più utile disinteressarsi di quello che accade fuori dai propri confini nazionali.